Grazie a tutti. Ai nostri amici che sono sicuramente curiosi di sentire cosa ne pensano. Non ascoltare i suggerimenti, quelle scherzose di Martini. O anche sì però, perché no? Allora vai vai vai! Ti sta parlando? Io penso. Martini tu metti la mano dietro la maglietta, facciamo come i ventrilochi. Io penso. Questo è il segreto per essere il migliore compagno. Grazie. Grazie davvero. Allora, che devo fare? Un balletto? Facciamo un ballo?